Buongiorno, siamo in fase di preparazione Aspetta, vorrei farti vedere una cosa da ingegnere che sono Grazie a Buon Luca, laureato ieri Era un perno che mancava Ok, allora sto per fare una cosa abbastanza assurda Ossia andare alla guida con Post Raga, sono senza sicura di cinturezza Raga, 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 punto del 2001 a cambio automatico Io non so che cazzo ci avesse avuto in testa la Fiat Sì, vola Faccio due giri, raga, adesso che c'è poca gente Almeno riesco a fare due impennate Lui e Matteo Ah, raga Perché con le quattro frecce? Oh, hai le quattro frecce Sei caduto? Oh, e che cazzo? E' un affanculo Si Berlin raga Matte scusa cosa fai con i coni lì? Raga Il primo pezzo è andato Ma cosa? Ma cosa? Ora che ci siamo cazzo Oh Matte Allora questa è la situazione E questa è l'altra situazione Raga la situazione è la seguente Birilli messi Stiamo solo aspettando voi Raga guardate l'eleganza fatta a persona Così si viene in ragioni Cosa cazzo Cosa cazzo fa? Ciao guardate che figata Questo qua ormai è il nostro simbolo Della new edition biker 50 ore Neanche 30 scusa Allora abbiamo Nick Ush Che è un youtuber famosissimo Pennatore da parcheggio Voleva essere soldato Voleva essere soldato quindi Bella Nick Bene Voglio farlo io Piglio di putt Dio Non spiellarmela Rassicurante Ah non va Raga è stabilissimo Allora ragazzuoli miei È successa una cosa Ovvero Il papà di Simo Ha provato il 690 Però gli è partito il casco Mentre lo stava usando Quindi assieme a caduta la GoPro Che era allacciata al casco Raga 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 Quindi si è spaccato l'adattatore del microfono Dunque Simo a breve Ordinerà il nuovo microfono Volevo dirlo Grazie Grazie Non spiellarmela Raga un vibratore Quanto cazzo vibra Sto registrando? C'è il tempo che scorre? Ma è un ciao? Un sì Un sì Sì Ok È un sì Ma io lo conosco Ma è che fa? Pezzo di merda Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Su salta un cichiere Eh eh Che non salta un cichiere Oh ma sei lo sguarnista Fanculo Simo balla la cassa Un'altra parte che non mangi Ma magari stai trovando Tanta roba e siamo appena, abbiamo appena iniziato E basta, non puoi che cazzo dire Oh bene ragazzi, guardate adesso cosa guido Mai portata sul canale una moto del genere Bene, 6,90 di Simo Come è in penna raga, ho il piede giù Ma che cazzo Non andare a fuoco che ti seguo Ciao Nick, hai capito subito Figurati Guardalo Sì Eh ragazzi non è colpa sua Ho un problema che si chiama non so stare su due ruote Uoooooooh Madonna, 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 madonna Cristolo Z Curva piano, curva piano, curva piano di nuovo con il casco di matte bene bene salta 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 bravo Simo Dio P*** vai vai via via vai 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 a caso a caso permesso 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 grazie terza quarta quinta sesta dove è la settima marcia che cazziva te rocca perché non c'è la settima raga andiamo ciao Simo porco ma tu sei matto vedi che tu vuoi dire star senti di killer dio c***o patata braia patata salta 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 uuuuuh Ciao Occhio alla moto Oddio 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 sbocco Per me solo mezzi potenti e seri Oh raga 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 Oh i bocchi stai dritto Ma guarda non sta fermo Oh Ma devo andare piano Sì Ma figurati Figurati Piove Raga come al solito quando noi andiamo ai raduni piove Seguiteci su Instagram, Youtube, Jerry You Porn Prima che ve ne andiate tutti Vi ringraziamo e Buca Buca